Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi portiamo una bellissima partita del campione italiano in carica Luca Moroni che con una vittoria spaziale contro un giocatore anche un po' più quotato regala la vittoria all'Italia contro la Francia questo è un risultato pesante, partita spettacolare prima di iniziare ricorda a tutti di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui, Moroni riporta la Gioconda a casa nella Francia mancano nomi importanti come ad esempio Vacherla Grave, Firuja però si presentano comunque con degli ottimi giocatori per quanto riguarda l'Italia invece, Vocaturo che abbiamo scoperto essere uno degli allenatori di Vidit uno dei top player, ha pareggiato così come anche gli altri, Lodici e Dvirni vediamo invece la partita di Moroni contro Mozart 2639 puntiello fide contro il 2575 di Moroni quindi come vedete c'è un po' di differenza il nero parte favorito in termini di ponteggio elo Moroni gioca con i pezzi bianchi e apre con D4 segue cavallo F6, C4, E6 cavallo C3, alfiere B4 rientriamo nella Nimzo indiana una delle migliori aperture del nero contro D4 se non la migliore in assoluto il nero in pratica sta attaccando il cavallo ed è già pronto ad arroccare Moroni gioca pedone E3 rientriamo nella variante Rubinstein questa è la mossa più giocata il nero mette il re al sicuro con arrocco appunto è un vantaggio per il nero giocare questa apertura poiché può sviluppare molto velocemente i pezzi sul lato di re come vedete e Moroni qui opta per alfiere D2 con alfiere D2 è pronto a catturare in C3 con l'alfiere segue pedone D5 il nero gioca al centro e arriva cavallo F3 semplice mossa di sviluppo Mossard continua con cavallo D7 sono posizioni teoriche queste perché l'ha giocata anche Carlsen questa variante e Moroni gioca torre C1 questa è una bella mossa sviluppa la torre dato che comunque in futuro questa colonna potrebbe essere aperta e chi gioca il gambetto di donna solitamente torre C1 è una mossa tematica segue C6 da parte del nero alfiere D3 Moroni gioca la mossa migliore sviluppa un pezzo e si prepara ad arroccare Mossard continua con donna E7 anche lui continua lo sviluppo e prepara mosse come pedone E5 e Moroni mette il real sicuro con arrocco segue pedone per C4 alfiere per C4 pedone E5 qui raggiungiamo questa posizione di completa parità dove Moroni dimostra di essere preparatissimo la conosce molto bene questa variante e questa apertura qui gioca la mossa migliore donna C2 sta giocando praticamente sempre le migliori eccetto alfiere D2 che è una mossa un pochino più rara però esiste teorica segue alfiere D6 da parte del nero e Moroni gioca ancora la mossa migliore pedone H3 attenzione pedone H3 mica è così semplice però ha un'idea vuole magari controllare la casa G4 cosa succede qui? che arriviamo in un momento critico della partita siamo solo a mossa 12 il nero è un 2639 un grande maestro fortissimo e non sa più cosa fare incredibile ma vero gioca a cavallo B6 commette già un errore pazzesco cioè non ha senso anche i grandi maestri anche quelli fortissimi anche ai livelli di Caruana così vengono ancora sorpresi in apertura questo dimostra che la preparazione teorica la fa da padrone 2639 di punteggio in pratica il nero qui o perde un pedone o perde la coppia degli alfieri quindi mettetela come volete cavallo B6 è un grave errore di cui dice in precisione ma in realtà è l'errore della partita secondo me segue cavallo per E5 moroni guadagna un pedone difende l'alfiere in C4 e dopo alfiere per cavallo pedone per il nero decide di riprendere indietro il pedone ok ma che cos'è successo a livello posizionale? che il bianco è rimasto con due alfieri coppia degli alfieri per il bianco ottimo vantaggio posizionale segue alfiere D3 molto semplice batteria di alfiere e donna che attaccano in H7 e da qui i due giocano questa partita dove il bianco è avvantaggiato poi per carità bisogna essere bravi a concretizzare il vantaggio e moroni in questa partita è bravissimo gioca una partita strepitosa veramente gioca benissimo quasi sempre le prime mosse del motore segue torre D8 da parte del nero sviluppa la torre moroni gioca a torre D1 anche lui sviluppa i pezzi mossard viene con l'alfiere in E6 e moroni qui gioca la mossa migliore è una mossa molto bella cavallo E2 con cavallo E2 in pratica sta preparando mosse come alfiere C3 quindi vuole puntare entrambi gli alfieri ed attaccare e in più ok sta lasciando il pedone in A2 in presa ma può essere catturato questo pedone? assolutamente no non può essere catturato questo pedone perché intanto l'alfiere poi rischia di rimanere intrappolato ed è anche abbastanza semplice la variante che seguirebbe ad esempio alfiere per segue alfiere C3 l'alfiere attacca la donna e dopo donna E6 alfiere per cavallo in F6 donna per alfiere pedone B3 ciao alfiere cade l'alfiere in A2 quindi assolutamente il nero non può rientrare in questa variante e ovviamente mossard lo sa no? quindi su cavallo E2 mossard gioca pedone H6 Moroni continua con B3 giusta ottima mossa arriva pedone A5 questo è un tentativo da parte del nero di giocare sul lato di donna per cercare di attivare i suoi pezzi il bianco continua con alfiere C3 attacca la donna la donna viene spostata in G5 e qui raggiungiamo possiamo dire un altro momento particolare della partita dove il nero minaccia una mossa come alfiere per H3 poi donna per G2 scacco matto in questo caso di nuovo Moroni è molto bravo a trovare la mossa giusta gioca pedone F4 con questa mossa attacca la donna la donna deve essere spostata quindi segue donna H5 e arriva pedone E4 cioè voglio dire guardate questa posizione il bianco ha tutti i pezzi a posto tutti i pezzi sono attivi e ha due fortissimi pedoni appaiati con zero debolezze possiamo dire il nero invece ma non mi sembra che ad esempio la torre in A8 stia giocando non mi sembra che il cavallo in B6 stia giocando questo cavallo in F6 è anche piuttosto debole insomma i pezzi del nero non sono coordinati così bene segue pedone A4 Mossard cerca disperatamente del controgioco di giocare sul lato di donna ma Moroni continua a mettere le prime scelte del motore gli gioca le mosse migliori pedone F5 buonanotte il pedone attacca l'alfiere dove va quest'alfiere? dove può andare? è da nessuna parte deve indietreggiare intanto Mossard cattura prima in B3 dopo il pedone per B3 gioca al fiere C8 ora guardate voi e ditemi ragazzi la posizione del nero è passiva i pezzi del nero non giocano e ora non farà altro che peggiorare segue alfiere per cavallo in F6 pedone per F6 donna C5 la donna attacca il cavallo il cavallo si ritira in D7 e arriva donna E7 cioè questo ragazzi è un massacro il nero sembra praticamente un principiante o comunque non un professionista ma lo dico con il massimo rispetto perché ha comunque 2639 punti ma ha sbagliato una mossa alla mossa 12 non sapeva cosa fare in apertura quindi è stato sorpreso in apertura in questa partita e non si è più ripreso questi sono gli scacchi oggi ovvero commetti un minimo errore e rischi di perdere la partita ovviamente l'avversario poi deve essere bravo a giocare bene come in questo caso sta facendo Moroni però insomma da questa partita emerge proprio il peso della conoscenza negli scacchi ok apertura qui mossa 12 segue torre F8 per il nero mamma mia cioè non si può vedere proprio la posizione del nero poteva anche abbandonare forse qui a mossa 26 invece decide di giocare gioco a torre F8 arriva a torre C3 un'altra bellissima mossa proprio bella bella serve a giocare torre G3 per entrare a dare scacco scacco matto magari arriva a torre A5 e qui arriva un'altra mossa molto bella un'altra mossa secondo me geniale questa la prima del motore ovvero alfiere B5 bellissima questa a cosa serve alfiere B5? il bianco sta minacciando tante cose il bianco sta minacciando scacco in G3 sta minacciando torre per D7 sta minacciando la torre in F8 insomma un disastro il bianco qui a partita completamente vinta la domanda sorge spontanea questo alfiere in B5 può essere catturato oppure no? eh no non può essere catturato vediamo cosa succede torre per alfiere qual è l'idea del bianco? torre G3 scacco Re H7 torre per cavallo eh il bianco sta per catturare la torre in F8 e poi magari a dare scacco matto quindi alfiere per torre donna per torre buonanotte questa è da abbandono direi no? e ovviamente Mossard vede anche questo però non ha avuto proprio modo di rientrare in partita Moroni è stato bravissimo qui eccezionale segue torre A8 per Mossard vedete? gli tocca giocare passivo arriva torre G3 scacco re H7 e qui per rendere questa partita un capolavoro Moroni gioca una mossa devastante una bellissima mossa torre G4 ai 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 a cosa servirà torre G4? bellissima veramente questa serve a intrappolare la donna ora il bianco minaccia semplicemente cavallo F4 e la donna del nero è persa in questa posizione Mossard decide di abbandonare che partita incredibile questa prestazione veramente maiuscola da parte di Moroni che come può vedere insomma il 2600 li può anche battere ora non è che tutti i 2600 giocano sempre così però insomma sono battibili allora qui per quale motivo abbandona? abbandona perché dopo ad esempio pedone per alfiere segue cavallo F4 la donna è persa semplice semplice quindi complimenti alla squadra forza ragazzi e complimenti a Moroni al quale auguro di raggiungere i suoi obiettivi scacchistici dato che è un professionista e ci tiene è ancora giovane tra l'altro può farcela tranquillamente può raggiungere i 2600 che non li ha mai raggiunti per ora 2600 a tempo lungo e poi magari pensare anche di arrivare a 2700 non è una cosa impossibile fino ai 30 anni avrà margini di miglioramento lo so è difficile non sto dicendo che sia facile arrivare a 2700 ma secondo me intanto dovrebbe pensare di arrivare e superare il 2600 visto che non ci è mai riuscito e comunque cioè è giovane non gli manca niente sa giocare bene a scacchi si impegna quindi sono sicuro che ce la farà grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace ed iscrivervi al canale ciao e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti